Musica 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 Uè bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un nostro nuovo video io sono un Leviatono e io sono la Pamuzza la Pamuzza ragazzi è un video importantissimo sono arrivate delle news in live che alle ore 22 adesso sono le 21 e 56 il portale rilascerà un nuovo oggetto c'è qualcuno che ha azzardato a dire verrà rilasciata la sabbia io non lo so ragazzi ma qui a Putridopantano succederà qualcosa tra pochissimi minuti e noi cerchiamo di vederlo assieme ragazzi andiamo subito al portale vediamo se viene altra gente è qua il portale è qua ragazzi speriamo di essere in safe comunque in tre minuti non dovrebbe succedere nulla ragazzi eccolo qua ragazzi aspettiamo siamo arrivati ragazzi guardate che storia questo è il portale raga noi non ci muoviamo non facciamo secondo te che cosa esce amore mio? qualcosa su sugli egizi sugli egizi secondo me rilasciano o lo scheletro del dinosauro una sfinge o rilascia ah no mi sono preso a male mi sembrava la sabbia quella davanti mi sembrava no no ragazzi è tutto eh non mi possono chillare non mi possono chillare che ore sono? quanto manca? 3 minuti ragazzi 3 minuti verrà rilasciato lo zaino della tempesta dice loris secondo leo secondo me uscirà o sabbia o una specie di porta ad arco ragazzi stiamo a vedere stati buono che cosa? stati fermo ah non mi muovo non mi muovo sto fermo ma non lì che ti cade ad osso ma non mi cade ad osso totale oddio c'ho il leviatano che sembra sotto l'effetto della zin zon aspetta un momento dicono rilascia lo scheletro rilascia lo scheletro stiamo a vedere ragazzi stiamo a vedere nessuno lo sa c'è una skybase lì davanti o comunque un qualcosa di simile c'è gente che ancora sta aspettando e che sta planando in questo momento non ah si sarà ha giampato ha giampato via ha giampato via oh magari un megatroll ho lasciato una partita che potevamo vincere ma guarda che si volina coi pirati che dicono che ansia scarione che ha se ne va capodanno due minuti ragazzi due minuti dai dai manca poco manca poco guarda guarda quella c'è uno davanti che è pronto a cecchinarmi ok se ne sta andando per i fatti suoi molto bene ci rovinate il video non mi possono cecchinare non lo possono fare non lo possono fare che ore sono che ore sono che ore sono 21 e 58 attenzione due minuti dai oh mio dio secondo me è uno psicalo rilascialo guarda si sta muovendo di più eh si muove di più mi sembra mi sembra che si stia muovendo di più questi sono gli allucinogeni attenzione aspetta un momento e se uno psicalo esce e se lo scheletro dicono per me non esce niente anche secondo me non esce nulla eh no sta cambiando forma ma non stagli sopra sennò ti viene in testa si muove di più dice Marco si muove si muove raga un minuto guarda 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 che viene su va che viene su aspetta un attimo meglio di capodanno esce un koala esce un koala scheletro esce un cammello ubriaco un momento esce la lama a sfinge sentiamo i rumori attenzione raga speriamo che esca qualcosa sono le 21 e cin oh 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 guardate Aspetta un attimo una cartazza DA lo sp verdade a nessuna così pre potente così raga grande pre potente così prompted così prom che figata che figata che figata no vabbè raga no Gigi Gigi ma no aspetta un attimo perché la baci sopra beh c'eravamo quasi con lo psicalo c'eravamo quasi con lo psicalo è una psicarrozza questa non può entrare non posso entrare non posso né se avessi un materiale andrei sopra proviamo andare sulla carrozza watch 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 che figata raga ok bella bene ragazzi siamo stati i primi in italia a farlo vedere un bacione lo carichiamo subito ciao iscriviti al canale